bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio io sono Ryder DJ con me in compagnia non c'è solo... vabbè adesso vi diranno chi c'è in compagnia con me c'è... Blum! eh? Blum! C'è no vabbè io dirò il mio nome perchè... Martia allora, questa è la tabella dei tempi non si vede niente, è nero pesto è nero pesto non si vede niente, allora porco tu! ecco, e allora questa, si vede? mi sto un po' impiccando veramente ecco si, mi tira lontana questa è la tabella dei tentativi faremo 10 tentativi, queste sono 5 faremo 10 tentativi se non c'è va a fare nessuno concluderemo l'episodio andando all'ospedale sono sicuro che cacchio si ha avviato vabbè gloria gloria o blumo, non lo so, vabbè sarà lei... ah, segnala le tabelle si ti immagino se vinceremo il primo tentativo ah si, la luce ne dubito ne dubito però potrebbe pure essere però pure te mi devi aiutare sinceramente intanto però mi prenderò anche un infarto probabilmente si vabbè dai, guarda eh, dobbiamo vedere quanta volte ho messo lo scusate che si vede così ma che bello un gnocco che c'è qua si un pappone come dice Fabi J come un pappone anche mentre tu fai il gioco io poi segno tutto eh nel frattempo io voglio vedere quindi quindi ti metti davanti a me il volume non è molto alto mi sbaglio il nero? ah no perché stavo andando bene no non si sente niente appunto non è che forse che si fa? ecco mi spaventano queste cose ah ok vabbè si si è capito che stai facendo? è vero il mouse che non si muoveva vai ehi intanto mi sto cagando sotto eh eh perché io ho 9 io non sentino niente ho 2 non sei felice? no non sono felice sono triste oggi ho già 3 minifreddi ma che cazzo belli una festa non sentino niente io oh porco ho 2 sono sempre una caga quando fa così oh cacchio 3 2 ah beeello un amore ma che sei? eeeh cioè per farlo ecco vabbè si vai va ah fozzi e te scusate scusate ragazzi però rompe abbastanza eh oh cacchio fa quando fa così io certo che ecco il rumore dell'autobus e le macchine dietro non è proprio il massimo eh per sentire però vabbè io non lo savore non è proprio il gene다 vabbè c'è... EU NO ME KAZ HATO ma io che voi dico? Io mi chavo sotto no, che chiacchio fatti oddio.... cerava ti focci parkto haye stiamo andando bene però è lunedì mattina quindi per il pene Io non sento Ok, dai la mia occa No, no, sinceramente a me tanto paura Non mi è spiatta Metti una X Eh, si metti la X Perché abbiamo fallito Allora Che era sto rumore? Eh, sono loro Io devo metterlo su Ora si sentirà qualcosa? Sì, rumore proviene da qua, bene Ok, quindi avevo fatto giusto Quindi adesso il massimo Io ti potrei anche aiutare se riuscissi a tenere la telecamera Insieme a questo coso Nell'orecchio Ma no, fa impressione tenerlo nell'orecchio Sì, ma stai attente Ok, cominciamo 3, 2, 1 E vai Scusate Ok, non riuscivo a mettere la notte Scusate ragazzi Prima per il tiro medio Però Fatevi il download E vedete un po' Ah, innanzitutto Qua non c'è il giochino del push trap Che ci fa fare Che ci fa cominciare per due notti Cioè Ci fa cominciare alle due Se no avremo già vinto Dov'è prima? Qua Dove devo Cacchio devo andare Ok, non si ti connette Infatti mi sa che nelle prime ore Non c'è nessuno Ragazzi non si sa mai Perché Bonnie è quello più bastardo Secondo me Unito a Freddy Infatti Bonnie Porco te A me fa impressione Tenere questa cosa nell'orecchio Era l'unico che faceva il Joss Che era il rider Eh Eh Shhh Ho sentito Tipo la torcia Il replay della torcia Ok, io mi so Sto po' che Teni queste cose in mano Se no Adesso 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 Scusate Ok Ok No Non ho sentito Fitto fitto Però l'avevo sentito Ma guarda Esce qualcuna Oh che culo Non dicevo Che c'era qualcuno E tu che dici Che muo Mi faceva il Joss Scherz E che c'era Io l'avevo detto L'ho sentito pure qua L'ho sentito pure qua L'ho sentito pure qua Eh Affanicino Eh l'avevo detto ragazzi L'avevo detto Allora Che cacchio sta a fare Non c'è nemmeno il pupazzetto L'ho sentito un'altra volta Vi giuro che l'ho sentito Oh Oggi Ragazzi Stiamo andando benissimo Ma non so Saranno questi cose Che ci fanno sentire Si ma hai parlato Affanicino Ho sentito Oh ragazzi Perché quando sento Ste cose Potrebbe essere Oh che culo Che culo Che culo Sto tenendo premuti In un modo incredibile Camera man Cosa Non sentito niente Che mi vedi Eh che no niente Ho detto camera man Per guardare bene Ok Guarda che Quei rumore degli autobus Però che Si è andato E' ucciso E' vaffanci Lo so Con queste cose Perché io Poi lo sento bene Ma lo sento benissimo A me è venuta Una fitta Una hit No 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 Ancora non l'abbiamo fallito A me è venuta Una fitta alla pancia Ok Ok Non sento niente E infatti Infatti Non ho giusto passi No Nemmeno i passi Ho sentito E però c'era Una commissione Scansione completata Attenzione Sicure che Ciclean Era rilevato Problemi che richiedono La tua attenzione Cacchia Si va a fangire Però io così Non sento niente Grazie Che smesso Perché smesso Ma che era Era uno Che non so Che si attiva Ogni volta Solo Sembra posseduto Nessuno ci interrompa Stiamo facendo un video Porco due E moi i minifredi Ci ammazzano Bella Una bella hit Che faccio Blocchi intanto Così No ma che blocchi Aspetta Allora Intanto ho detto Non mi distur Non mi devi Più disturbare Mai più Hai capito Hai capito Mai più Hai capito E' strano Parlare con un computer Però Si lo so Però mi fa incacchiare Quindi io ci parlo Comunque Non mi prendere per pazzo Ragazzi Perché quanto Te fai nervosire Te fai nervosire Ok Mi dovete capire Questo che cacchio è Aviva Guarda Preferisco Favinezzate a freddi Quello normale Sicuramente Ok Bene Ok Ragazzi Proviamo A quanti dettativi 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Ancora 9 da fare No Come 9 8 Siamai Oddio ancora 8 ragazzi E' una tortura Siamai tagliamo Appena arrivavo a 5 dettativi Sblocchiamo E ne facciamo E' partito Si lo so che è partito Lo so che è partito Che cosa stai a parlare Io non sentirò niente Che cacchio E lei vedeva No Scusate ragazzi Per risparmiare Prima Bello che io Ho queste cose No Questi cose Che io ce le ho amassi Quindi io Mi prendo un infarto Si I cosi sarebbero Quelli Per alzare Il brume Ho sentito Ho sentito Ho sentito qualcosa Ho sentito qualcosa Vabbè stavolta E' colpa mia Se le arriva Ok No no Non è litera Che nessuno Ammasso qualcosa Ha fatto sto rumore così Più o meno Era così Bello che Io mi piglio I colpi Loro Una sta registrando E una nemmeno Sta guardando Non stai nemmeno Guardate Rai testa Davanti E Come posso fare Ok Io Non ho sentito niente Infatti Ci da non fare La bastarda Per favore Adesso Non dico niente Qui non so Ti da niente Guarda Che anzi Che da sto gioco Che anzi Che ti regalo E perché lo fai? Eh non lo so Passi Passi E non passi Questo Questo è Foxy Infatti Non andare per forza Da Foxy Se no c'è fai C'è fai Cucuccolo C'è il cucuccolo Bello Se ne vuoi avere No non ho perso Madonna Se te guardi Non me lo dovresti mai più chiedere Oggi erano tre mini freddish Erono tre mini freddish Adesso devo andare a vedere Con te che mi stai avanti Ok non c'è nessuno Però Non c'è nessuno Bene Porco Io ogni volta Che cacchio volete Messaggi del cacchio Io non sentirei niente Poi se ho un jumpscare Siamo le due Siamo le due Per il te nemmeno dire Siamo le due Perché non è che è porto a sfortuna Non sentirei niente Oddio che era Che era Oddio Non sentirei un respiro Oddio Quanto sei bello Foxy Ma poco bello Un ritocchino Però non mi farebbe male No infatti No vai dal meccanico Perché La faccia Il muso Non è molto bello Ecco diventa come il tuo pupazzetto Vado che ansia Non è come il FNAF trade Dove tu controlli i telecamere No no Questo qua Però non c'è telecamere Devi controllare queste porte E sentirei i respiri Io non sentirei niente Sono le tre ragazzi Sono le tre Oddio Quale ore passano ogni Oddio ma quanto sei bello Foxy Ho capito che sei una volpe pirata Però non è che devi essere brutto Quanto tua madre Che c'è se lui è così Come sarà sua madre Un abominio Ma io non ho sentito niente Non ho sentito un cacchio Un cacchio Un cacchio Io non ho sentito un beato cacchio Ok? Eh? Calma Ok? Calma Oh ragazzi Io ho queste reazioni in pratica Ce ne sono cotti Guarda preferisco Favinezza di Wario Che Favinezza Si vede bene no? Quando io gioco Si vede bene? Ok ragazzi Questo gioco Non vi consiglio di comprarlo Ma io non Ma io proprio Perché visto che io Colleziono i FNAF L'ho preso No? Io non l'ho mai cominciato Io l'ho cominciato proprio oggi E siamo arrivati fino alla terza notte No? Che io sono morto anche la prima notte Perché non lo sapevo Che è arrivato un animatronico No? Quindi Si ti ho dato una mano io A sentire Eh si Però comunque siamo morti Beh Perché Perché non si sente niente Ma io non avevo proprio sentito niente Non avevo nemmeno sentito i passi Come questi Vabbè si abbiamo capito Eh però io che Oh Se mi Guarda Io non so che fare Io mi domando Gabby Gabby Lion Non lo so Tutti gli altri youtuber Come cacchia hanno fatto Così possiamo vedere Se Roger muore Eh che bella cosa Ma nel gioco Ok io non sentito niente Faccio così Appena arrivo al quinto tentativo Io cambio il gioco Eh non c'ho Non lo faccio più Si mettiamo Ello Kitty Magari se ce l'avessi Ello Kitty Ci giochè Ecco Foxy Probabilmente Ah eh ok Non ci fa il jump Scherza Almeno quello E ho attivato il maiuscolo Ok Andiamo dietro Ovviamente Tutti Oh cacchio Oddio Non so Oh ma Mamma mia Pensavo di morire Pensavo di morire Ma io ho paura Quando Foxy Fa il jump Scherza Così può passare Secondo te No Cacchio cacchio Cica cica Chicken chicken Pollo Io non sentito niente Se mi pio il jump Scherza Vuol dire che Cica è una pastata Scusate ragazzi E' più stress Non sentito niente Adesso Adesso Claria capisci Io cosa provo a giocarlo A me è quasi volata la telecamera Perché mi stavo grattando la gamba E quindi la tenevo con una mano E mi è quasi volata Ma io odio Dove fanno i jump Scherza E io adoro Ma io FNAF 3 Ma perché non potevo fare quello Io adoro Oh l'ho sentito L'ho sentito Per un frame Proprio Per un secondo Guarda moriva Apri però No che chiacchio Ecco avevo paura di Prigliarmi già Ma in qualunque occasione Oddio Che brutto Che è Li manca tutto il muso Li manca tutta la pelle del muso Mi si vede l'esoscheletro Ma no Ecco ok Ok Controlliamo quello Controlliamo qui Certo che con la tua mano Davanti allo schermo Perché anche devo fare Ma no Ma no Ma no Secondo Ah E segna un'altra x Gloria Perché Ecco Manca la 5 adesso Brutta Ma stanna Così di buttano Oh calmo Calminio Facciamo così no Questa è fainezza Da Freddy's 4 no Eh Dopo posso fare un altro Sempre come un funafo Soltanto In un altro modo Va bene O chiedi a me Vabbè io dopo Ne faccio un altro Marzia Marzia stoppa Perché lei Camera Io sono quello che Gioca E io Faccio lo stesso Compito Eh sì Gloria Va bene 10 tentativi Sempre Sì ma Quando dovrò fare Il sesto tentativo Non farò questo Non è detto che vorrei arrivare al 5 No Io quando arrivavo al 5 Te blocchi Provi il video E poi E poi passiamo Un altro gioco Tipo finale Ecco Non sentire niente È vero che all'inizio Tutti in un film Ma poi E non Ho sentito un bel passo Un passo proprio pesante Ma di quelli pesanti Ragazzi Ragazzi Se mi vedete la testa davanti allo schermo È solo perché Io devo sentire i rumori No Di solito è la mano Che metti Ah E io mi cago sotto Per fare queste cose Bello che io Adesso lo devo fare Per l'ultima volta Certo Non sentire niente Non sentire niente Porca Perché hanno fatto un horror Sì ma Di solito Non faceva pure FNAF Lo sai Potrò fare pure FNAF Sister Location Quindi C'è Ancora non è uscito Quando lo uscirà Dove era un passo Era un passo Porco Dove era Foxy Quello Era Foxy Era Foxy Ah Non era Foxy Passi 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 Ormai Boni si dovrebbe chiamare Passi Anzi Foxy Passi Si dovrebbe chiamare I passi I passi E anche il quinto tentativo È andato Love that